Vai! Vai! Non smetto di pensarci. Quindi questi pensieri non se ne andranno fino a quando il caso non sarà chiuso. La polizia ha consigliato alla famiglia di non soddisfare la richiesta. È possibile che non si sia trattato di un rapimento, ma di un omicidio. Dal 2000 al 2020, 158 donne norvegesi furono uccise in caso in cui i loro partner, i mariti, furono accusati da voi. La polizia. Quanti colpevoli sono liberi. E noi lo prenderemo e lo smascheremo. Lo rinchiuderanno. La polizia non troverà nessuna, nessuna prova su di me. Cosa vede in questa foto? Dice che abbiamo deliberatamente dipinto Hagen come colpevoli. Beh, se è innocente e la polizia ha avuto i paraocchi, noi ci siamo bruciati per essere stati allineati a loro. Se ci avesse ingannato... Io non credo. Se fossimo coinvolti nel far condannare un uomo innocente per omicidio... Non sono colpevole. Non ne ho idea.